Sottosegretario, oggi Pescara ha annunciato che dal 9 di maggio il taser, la pistola elettrica, entrerà in funzione e verrà utilizzata dalle forze di polizia anche nella città di Pescara. Sì, il 14 di marzo il taser è partito in 18 città italiane, dal 9 di maggio anche Pescara, Treviso, Udine e Sassari saranno altre città e poi altre, in totale 16 nel mese di maggio, saranno le città nelle quali ovviamente ci sarà non la sperimentazione ma l'uso effettivo, la sperimentazione del taser è già stata fatta ha prodotto esiti assolutamente positivi e quindi dal 9 di maggio anche polizia, carabinieri, guardie di finanza che fanno attività di prevenzione e controllo del territorio potranno utilizzare il taser che ripeto è uno strumento di difesa e non di offesa, uno strumento di sicurezza e non di violenza ha un'efficacia di deterrenza importante per tutelare gli operatori e le forze di polizia per garantire al meglio la sicurezza dei cittadini anche di Pescara. Cosa cambierà con l'utilizzo di questa nuova arma? È un'arma non letale, è un'arma che inibisce i movimenti muscolari, che garantisce l'incolumità dell'operatore di polizia che ripeto fa prevenzione, attività sul territorio quindi di coloro i quali stanno a contatto con la criminalità vera e quindi credo che sia uno strumento in più per poter garantire sicurezza agli operatori e nel momento in cui noi abbiamo gli operatori in sicurezza ovviamente si alza il livello di sicurezza di tutto il territorio e dei cittadini. E oggi a Pescara, era venuto qualche mese fa per l'inaugurazione della sala operativa della Polizia Municipale, siamo a Pescara in Abruzzo, una regione che una volta era definita Isola Felice, oggi probabilmente non è più così. Un milione e duecentomila euro di intervento cofinanziato dal Ministero dell'Interno e dal Comune di Pescara per la videosorveglianza che è uno strumento e le sale operative che è uno strumento fondamentale per il controllo del territorio. Io credo che l'attenzione e da questo punto di vista devo ringraziare il perfetto questore tutte le autorità di pubblica e sicurezza locali per tenere e ovviamente tutti i rappresentanti delle forze di polizia per tenere il livello di attenzione e di controllo del territorio elevato. Non bisogna abbassare la guardia nei confronti della criminalità organizzata, nei confronti della criminalità diffusa e bisogna tenere soprattutto l'attenzione alta nei confronti di quei fenomeni che creano allarme sociale. Pensiamo al baby gang, pensiamo alla mala movida, pensiamo allo spaccio, qui c'è un territorio ovviamente anche grazie alla capacità delle forze di polizia di tenere alto il livello di attenzione. Da parte nostra c'è un impegno che è quello di rafforzare la presenza dello Stato e si rafforza la presenza dello Stato in due modi. Uno potenziando gli organici delle forze di polizia con le assegnazioni che stiamo facendo tra febbraio e giugno, due difendendo i presidi di legalità. La sicurezza è un bene fondamentale che deve essere garantita e da un servizio fondamentale che deve essere dato ai cittadini, lavoriamo per quello.